Ed eccoci anche oggi per un'altra puntata di In Cammino, oggi andiamo nella diocesi di Mazzara del Vallo in Sicilia, provincia di Trapani, a scoprire il loro quarto cantiere. Vediamo. Il cantiere della legalità, ne parliamo con i studi, è tornato a trovarci, grazie per essere ancora qui con noi, Don Francesco Fiorino, ben trovato, che è fondatore del centro socioeducativo I Giusti di Sicilia, di Marsala, ma anche coordinatore del cantiere sinodale che vi stiamo per presentare. E poi collegato da Mazzara del Vallo c'è anche il vescovo della diocesi, Monsignor Angelo Giordanella, ben trovato, eccellenza. Buonasera, grazie, grazie a voi. Ecco qua, allora iniziamo subito a raccontare di questa vostra scelta ben precisa, direi, di questo quarto cantiere che racconta anche un po' il territorio, un ascolto che ha delineato questo impegno che poi si manifesterà quest'anno. Il 19 marzo nella chiesa madre di Campobello di Mazzara lei ha inaugurato il cantiere della giustizia e della legalità. Perché allora avete proprio scelto questo tema per il cammino sinodale per questo secondo anno di sinodo? Il cammino sinodale ci ha messo in ascolto, in ascolto di Dio, ma anche in ascolto degli uomini, delle donne del nostro territorio. L'atteggiamento di ascolto ci ha portato a sentire questo bisogno, questo grido che parte dalla gente. E noi abbiamo voluto corrispondere unitamente all'equipe sinodale che ha già lavorato l'anno scorso nelle comunità parrocchiali coinvolgendo i presbiteri, i diaconi, le religiose, le religiose, tutte le comunità ecclesiali. Quest'anno abbiamo voluto dare ancora più concretezza a questo ascolto e mentre vediamo i cantieri della strada, i cantieri di Betania, la strada, la casa e le diaconie, vogliamo aggiungere questo quarto cantiere, come ne aggiungeremo un quinto, che sarà inaugurato sabato prossimo, il dialogo interreligioso. Ecco, questo cantiere per rispondere ha un bisogno ben concreto che il nostro territorio vive. Allora, Don Fiorino, ho detto Chiesa Madre di Campobello di Mazzara. I più attenti all'ascolto ricorderanno che questo luogo, questa città, è il paese dove Matteo Messina Denaro trascorreva la sua latitanza. Far partire il cantiere della giustizia, della legalità, proprio dalla Chiesa Madre di quel territorio, credo che questo già sia un segno importante della direzione. Sì, sicuramente. È stata scelta apposta per solidarizzare intanto con la comunità ecclesiale e civile di Campobello, perché se no si continua a perpetuare il pregiudizio che basta parlare di Sicilia e siciliani come se tutti fossimo mafiosi. Non è così. È chiaro che qualcuno l'ha protetto in quel posto, le indagini di magistratura e forze dell'ordine lo stanno dimostrando, ma la maggior parte della nostra gente è gente laboriosa, gente che lavora, gente che non ha a che fare sicuramente col fenomeno mafioso. Perciò, e questo è stato il primo motivo, ma il secondo motivo anche per dire che la Chiesa è vicina al grido, come diceva il Vescovo, di dolore e anche di ingiustizia, perché la mafia ha creato solo dolore, ingiustizie, ha creato sofferenza, ha creato morte. Ecco che la Chiesa si fa vicina, la Chiesa vuole stare dalla parte del bene e non del male, dell'oppressione, dell'ingiustizia, dell'odio e della prepotenza mafiosa. Anche perché questi fenomeni noi li abbiamo presenti nel territorio e perciò dobbiamo contrastarli, contrastarli con l'educazione, contrastarli con il stare insieme, il camminare insieme e non disperdere le forze positive, a cominciare da quelle ecclesiali ma anche da quelli civili, perché ricordiamo che nel nostro territorio ci sono persone che lavorano anche nel campo della giustizia, del bene, della solidarietà e questo mi sembra che sia un buon inizio. Faremo lì il secondo incontro per poi proseguire in questo cammino che come ci ha indicato il Vescovo all'inizio proprio a Campobello deve essere un cammino fatto di proposte, di scelte e di comportamenti concreti da indicare. Eccellenza, come è andato questo primo incontro del 19 marzo? C'è stata partecipazione o c'è anche un po' di paura ancora? Il primo incontro è andato bene perché abbiamo avuto una buona partecipazione di laici, un gruppo di presbiteri, di religiosi, la componente ecclesiale era ben rappresentata. Nello stesso tempo il nostro cantiere vuole essere anzitutto un momento di riflessione, un momento di formazione delle coscienze per poter poi rispondere alla coscienza ben formata. Noi vogliamo mettere insieme tutte le forze, è bello che rappresenta anche il sindaco, oltre che presente le varie istituzioni del territorio come la scuola, la comunità ecclesiale, le forze politiche, le forze dell'ordine. Ecco, in questo momento c'è da mettere insieme, perché insieme possiamo pensare e avviare processi educativi. Il cantiere anzitutto vuole essere un momento proprio educativo e di formazione della coscienza. Don Francesco, nello scegliere questo cantiere ci sono state delle resistenze? Questo tipo di cantiere? Più che resistenza è magari qualche sorpresa. La Chiesa è nel campo educativo, come il Vescovo ricorda, ma la Chiesa deve stare dalla parte di chi dei più deboli, dei più poveri, perché il campo, il cantiere parla anche di ingiustizie sociali, di sfruttamento. Il fatto che ci fosse anche il sindaco all'apertura del cantiere è un bel segno. Il sindaco ha chiesto proprio questa collaborazione, perché la collaborazione tra Stato e Chiesa è nella nostra Costituzione, ognuno fa la sua parte, no? Però è chiaro che la Chiesa è formata anche dai cittadini, da persone che lavorano, da persone che agiscono nelle varie istituzioni, dalla scuola alle forze dell'ordine, in tutti i campi, il campo della sanità, il campo anche dell'esercizio della giustizia. E tutto questo va fatto appunto collaborando, imparando a cercare anche soluzioni, a indicare strade, i percorsi. Questo è molto importante, perché Vangelo e Costituzione per noi sono due pilastri fondamentali. E la nostra Costituzione, a proposito di legalità, è ricchissima. Già i primi articoli parlano di solidarietà, di diritti della persona, di lavoro, di rispetto della diversità, di esprimere ognuno il proprio pensiero. Cioè, la nostra Costituzione nasce anche all'apporto di cristiani che non sono rimasti in sacristia, di cristiani che si sono impegnati. Era già una Chiesa in uscita. Esattamente. Abbiamo una storia ricca nel nostro paese, ma anche il nostro territorio nel suo piccolo. Siamo la parte più a sud dell'Italia, però abbiamo persone che si danno anche da fare, che esprimono la loro fede in maniera anche costruttiva. Come diceva Don Bosco, buoni cristiani, onesti, cittadini, eccellenza. Prima di andare in pubblicità, che comunità ha trovato? Lei è entrato in diocesi, se non sbaglio, lo scorso ottobre. Quindi è da pochi mesi che è pastore di questa bella terra. Che diocesi ha trovato? La diocesi di Mazzaro è una diocesi, anzitutto accogliente e poi vivace dal punto di vista pastorale. Grazie al cammino avviato dai presbiteri e dal mio predecessore, Monsignor Mogavero, che hanno lavorato pastoralmente, ma che hanno creato una comunità che sa ascoltare, una comunità che sa accogliere, una comunità che si mette in discussione, una comunità che si lascia interpellare da quelle che sono le domande di questo territorio. Pertanto ho trovato una bella comunità, sia le città come Mazzara, come Marsala, come pure tutta la zona della Valle del Belice, dove ci sono ancora tanti problemi irrisolti, dove il terremoto del 1968, ma dove c'è anche una realtà viva con tante belle risorse. Ci fermiamo solo per un attimo, poi quando torniamo continuiamo a parlare del quarto cantiere della diocesi di Mazzara del Vallo, parliamo di giustizia e di legalità, vi faremo vedere anche come si può restituire alla comunità un bene confiscato dalla mafia. Tra poco. Con Monsignor Angelo Giordanella e con Don Francesco Fiorino stiamo raccontando il quarto cantiere della diocesi di Mazzara del Vallo dedicato all'educazione, alla legalità. Adesso vi portiamo proprio in quelle terre per farvi vedere come si può ridonare alla comunità un bene confiscato dalla mafia. Vediamo. La storia del Cilezzo inizia circa vent'anni fa quando la Fondazione San Vito Ollus si è ricevuto in affidamento questo bene confiscato dalla mafia e da lì è iniziata questa avventura. È stato come costruire qualcosa per poter poi goderne nel tempo. Infatti è così che è stato perché l'abbiamo messo, diciamo, un po' su noi con il consenso della fondazione chiaramente che ci ha lasciati fare e adesso lo gestiamo un po' come se fosse nostro perché curiamo noi stessi il rapporto con i clienti, con le persone che ci vengono a trovare. Mettiamo le nostre capacità a disposizione delle persone che apprezzano anche la storia di questo posto non soltanto la materia. Essendo un turismo rurale giustamente abbiamo prodotti maggiormente prodotti della terra quindi hanno il sapore della nostra terra oltre che della terra stessa è il sapore della legalità. Clienti non solo apprezzano il cibo perché è di buona qualità e di buona fattura ma apprezzano anche l'accoglienza che viene fatta in questo posto. Molta gente nelle recensioni che ci lascia o nei commenti che fa scrive o dice che si trova come a casa è come andare a mangiare a casa della nonna, a casa della zia. Sin dall'inizio questa struttura ha riscontrato da un lato la differenza di qualcuno e quindi si sono manifestate anche attraverso delle minacce ma un po' di differenza rimane anche ora anche se negli ultimi anni la risposta del territorio è stata molto positiva. Oltre al ristorante che è aperto quattro giorni a settimana qui viene fatta anche attività tipicamente agricola. Abbiamo un vigneto ogni anno viene celebrata la giornata della vendemmia della legalità. Abbiamo da pochi anni impiantato un univeto che servirà per la produzione dell'olio che consumeremo all'interno del ristorante ma che distribuiamo anche alle parrocchie. Le persone sono anche un po' curiose spesso fanno delle domande questo posto come è nato e che relazione avesse anche con il contesto in cui è nato. Molti fanno delle domande perché magari vedono i quadri di Borsellino che sono messi in questo posto e accettano il fatto che si trovino in un posto dove possono respirare il sapore della legalità. Questo significa che le cose in Sicilia possono essere fatte anche in maniera diversa rispettando le norme, rispettando la legge e dando il giusto peso, il giusto valore alle persone che per questo si spendono quotidianamente. Don Francesco, tu hai vissuto un po' tutta la nascita di questo luogo da quello che era prima a come è oggi che effetto ti fa? Si parlava anche di minacce nel servizio e tu ne sai qualcosa? Beh, le minacce le faceva una diciamo la moglie del boss locale che è all'ergastolo che poi tutto è stato chiarito col magistrato perché ho denunciato però ecco è un segnale di soddisfazione io che sono un pedito agrario che ho studiato agraria ho imparato che quello che si semina si raccoglie ecco e anche nel campo educativo lo diceva il cardinale Carlo Maria Martini che educare è un po' come seminare se non si semina non si raccoglie nulla questo è un frutto diciamo di questa cosa a cui hanno poi in seguito partecipato tante persone e chi lo viene a visitare naturalmente ne gode sia apprezza il sapore della nostra terra di Sicilia ma apprezza quello che Paolo Borsellino lo chiamava il fresco profumo della libertà contro il puzzo della mafia e della corruzione e questo secondo me è la strada la Chiesa non deve soltanto dire, annunciare come ha detto ieri Papa Francesco ma deve anche poi rendere credibile quello che fa con azioni, con opere, con progetti ecco è quello che vogliamo fare nel cantiere non solo fare dei proclami ma soprattutto indicare strade, azioni, progetti, iniziative che richiamino la libertà e i diritti Monsignor Giordanella questa è una bella notizia questa che abbiamo visto in tutti i sensi è un punto da cui ripartire un esempio come questi ce ne sono altri è questo che va fatto conoscere va fatto conoscere anche agli stessi abitanti della sua diocesi sì, certamente è un lavoro prezioso che si è fatto nel tempo e che bisogna adesso intensificare noi non dobbiamo avere paura non devono spaventarci le parole legalità, giustizia, pace ma anzi spronarci a compiere il nostro dovere con serietà, con impegno con coinvolgimento ecco perché diamo vita al caldiere della legalità e della giustizia perché non è tanto ancora una volta un parlarci addosso con la retorica e l'abuso di queste parole ma immediatamente legalità, giustizia e pace richiamano al senso di responsabilità il senso di responsabilità è imparare ad essere liberi con gli altri per gli altri e mai contro gli altri era questo il pensiero di Doppino Puglisi ma anche di quanti di quanti di tanti eroi che sono stati uccisi dalla mafia i giusti di Sicilia i giusti di Sicilia Paolo Borsellino Giovanni Falcone Rosario Livatino i servitori della nostra democrazia allora diventare liberi ecco il cammino sinodale diventare liberi con gli altri e per gli altri in chiusura Don Francesco mi dice come andrà avanti questo cantiere come si svolgerà che cosa avete in programma sì allora sabato 2 aprile ci sarà il secondo incontro sempre a Campobello di Mazzara perché non vogliamo lasciare subito la comunità anche dare il segno che la chiesa c'è vuole essere presente ci siamo non è uno spot appunto e poi continueremo ogni 15 giorni fino a che scelte le priorità che sono diverse da noi oltre alla mafia purtroppo c'è l'ingiustizia socio-economica c'è il discorso dei giovani che lasciano la nostra terra c'è anche la mala politica la corruzione c'è l'evasione fiscale c'è purtroppo anche la distruzione del patrimonio ambientale siciliano che è stato distrutto con l'abusivismo edilizio delle nostre bellissime coste ecco insieme sceglieremo le priorità e come ha detto il Vescovo faremo delle proposte per essere con e per gli altri ecco la chiesa non vuole essere contro nessuno anche quando noi parliamo della mafia e dei mafiosi ricordiamoci il grido di di Papa di San Giovanni Paolo II convertitevi cioè cambiare vita seguire il Vangelo seguire la dignità i diritti della persona questo è quello che conta è un cammino naturalmente che aprirà grandi percorsi e seguiremo ecco l'ho portato qui il documento della Gaudium et Spes che è un documento fondamentale del Concilio anche perché il Papa Francesco ci ha detto che il Sinodo deve servire a risvegliare le coscienze dei cristiani e a seguire gli insegnamenti del Concilio eccellenza in 20 secondi ci dice che cosa spera per la sua diocesi noi insieme vogliamo accendere luce di speranza e vogliamo nella nella situazione drammatica vogliamo cogliere invece occasione per testimoniare il Vangelo e per costruire relazioni relazioni sempre più fraterne e chi ce lo fa fare in fondo noi vogliamo impegnarci ad obbedire al Vangelo questo ce lo chiede il Vangelo ecco perché anche Don Fiorino ci dava all'inizio Vangelo e Costituzione che insieme creano stili di vita stili nuovi di vita non vogliamo lasciarci impaurire ecco da non abbiate paura per tornare a Giovanni Paolo II grazie Monsignor Giordanella che era la sua prima televisiva noi la ringraziamo per averla fatta con noi quindi siamo molto molto contenti buon cammino grazie anche a Don Francesco Fiorino ci sentiremo presto veniteci a trovare non mancheremo noi ci ritroviamo domani sera come sempre alla stessa ora alle 19.30 per un'altra puntata di In Cammino grazie a presto grazie a tutti